Abbiamo chiesto di fare un progetto che noi lanciano il finissimo che si chiama il distrito 297, il distrito 297. Sai che tu è un progetto per cui noi che tremo, il nostro rubiano non è. Uno che vota, che parte del mondo che vota, il voto rubiano, vota parte di lo che noi si chiama il distrito 297, il distrito del paese di Aruba. E ora in questo momento abbiamo fatto una decisione importante per il nostro Paese, con ci che cresci, con ci che sviluppare la nostra economia. che cosa ci sono? Ci sono cresci e dipende ogni via che ci sono buscati di gente all'interno per il nostro spazio, ci sono cresci in tal forma che ci sono 13 nostri studiatori e ci sono molto aiuto per noi per noi per noi per noi e ci sono un progetto durante la celebrazione di Aruba D'Acht in fin di Siaman e l'idea è che c'è una piattaforma digitale nella quale ci sono collegati con altri, con la natura parte del mondo e attraverso la piattaforma qui ci sono più coinvolto con la quali ci sono in Aruba e ci sono più coinvolto non solo per lezzi con Aruba ma per dare un buon apporto ma soprattutto per un perubiano che vive in l'exteriore sia per studiare sia per trabajare per qualche motivo e non è un po' di certo di sviluppo con un'appoggiamento con noi se ci sono andati a Colombia per un tempo largo a uscire che la kita lo so che è è un po' di sicurezza a uscire che ci sono andati a uscire e portiamo over or else noi i studenti si sono andati a uscire a uscire in tessere il mondo del turismo e assolutamente ci sono andati a uscire per mellorare e a uscire di una piattaforma digitale e spero che ci sono in persone che si sono andati a uscire per intercambiare di idea. Nel momento qui è la Facebook page di District 2 97, il distrito 297 è lancato e la Plataforma Digital è in preparazione per lancarci per ciò che ci sono per conneccare tutti gli altri. Una appellazione di noi è che ci sta ascoltando, ci sta mirando, ci ci sono dei conosciuti nel exteriore, ci sono dei familiari nel exteriore, ci sono dei studi, ci sono dei tragi, ci sono dei interessi per una contribuzione, ci sono dei e notizie qui n'a, non pidi n'am para non segui noi, ando passi n'arantami per durare la contribuzione.